buonasera a tutte e a tutti siamo qui stasera per parlare di leadership femminile nel mondo dello sport con due ospiti fantastiche e per me luisa rizzitelli presidente di assist esperta di comunicazione politiche di genere giornalista e un sacco di altre cose e antonella bellutti due medaglie olimpiche prima donna candidarsi come presidente del coni e oggi parleremo proprio di questo cioè della leadership femminile di quanto sia complesso inserirsi all'interno delle dinamiche sportive soprattutto in italia e questo dibattito è all'interno di un progetto europeo a cui stiamo partecipando con assist e con la cooperativa gea di padova e che ha proprio lo scopo di combattere la disparità di genere all'interno dello sport e di affrontare da diversi punti di vista la sottorappresentanza delle donne all'interno della leadership sportiva che sicuramente è presente in italia ma non solo e inizierei subito con le domande lascerei parlare alle nostre ospiti e insomma siamo qui per parlare di leadership sportiva assist ha partecipato a questo progetto anche perché la situazione in italia è piuttosto imbarazzante quindi direi di iniziare facendo un po un quadro generale di come funziona in italia lo sport il professionismo sportivo e di come anche se siamo nel 2021 non c'è stato un cambiamento reale e non ci sono tutele soprattutto all'interno del lavoro sportivo luisa ce lo dici tu così sulla fiducia un applauso sulla no era era francesca anche se mi imbarazza un po parlare prima della del monumento olimpico lì perché in effetti incontrare una che ha vinto una medaglia d'ora le olimpiedi è difficile incontrare una che ne ha vinte due difficilissimo incontrare una che ne ha vinte due in due discipline diverse quasi impossibile e noi ce l'abbiamo qui stasera quindi dottoressa belluti l'applauso è meritato è veramente meritato perché ad atlanta e a sydney antonella correva su una bicicletta senza freni in un velodromo dove probabilmente potevano rincorrere lo solo dei dei razzi dei dei fulmini per quanto era veloce ma ahimè da quando antonella ha vinto questi giochi olimpici a oggi cioè dal 2000 fino al 2021 mamma mia quanto tempo è passato non è cambiato niente non è cambiato niente di una situazione che non è bella per niente che non fa onore per nulla al nostro paese che assist associazione nazionale atlete denuncia da sempre lo facciamo con volontarie tra cui ci onoriamo di avere anche francesca masserdotti che è responsabile del progetto contro gli abusi e le molestie nello sport per assist e lo facciamo anche con un'altra grande amica che non vedo ma sarà in giro che alice eccola che alice bruni che la nostra responsabile dei progetti internazionali un mostro di bravura una mostra anzi scusi di bravura e lo facciamo perché noi crediamo che sia assurdo che in italia per esempio una donna un'atleta non possa accedere a una legge dello stato e quello che succede nello sport e non lo sa nessuno non lo sa talmente nessuno che spesso lo dobbiamo rispiegare ai nuovi parlamentari quando cambiano legislatura noi andiamo in parlamento incontriamo i nuovi deputati i nuovi senatori e senatrice puntualmente non ci credono e dobbiamo rispiegare che la legge 91 del 1981 quella su professionismo sportivo non consente alle donne di utilizzare quella legge perché il legislatore ha detto a decidere chi può usare questa legge cioè quali saranno le discipline sportive professionistiche sono il coni con le proprie federazioni doveva fare il coni una circolare che doveva fissare nel mio 1881 dei parametri per capire quali fossero oggettivamente le discipline sportive professionistiche invece non l'ha mai fatto risultato le federazioni possono chiedere di far diventare professionistica una disciplina sportiva e lo fanno e lo hanno fatto a oggi abbiamo quattro discipline sportive solo quattro e sono 45 giusto le federazioni sportive e queste quattro discipline sono il calcio fino alla lega pro il basket serie 1 il golf e il ciclismo su strada con un piccolo particolare un piccolo osceno particolare sono tutte e solo discipline maschili quindi in italia una come lei che ha vinto tutto che quando gira per il mondo ce la usannano come se fosse la madonna di meggiugorio con tutti i rispetto per i credenti noi in italia l'abbiamo considerato una direttante una che ha fatto sport per divertimento per diletto in fondo era un giochino della domenica peccato che lei ci ha speso 20 anni della sua vita anche 10 ore al giorno anche 365 giorni all'anno andando in giro per il mondo perché in italia non avevamo neanche un velodromo per farla allenare ecco questa storia è ancora così quando sentirete dalle cronache adesso le atlete finalmente professioniste è falso è totalmente falso hanno bloccato una legge che poteva cambiare un pochino le cose l'hanno ribloccata perché sono ancora più forti i presidenti federali e le associazioni sportive che vogliono che gli atleti e le atlete tutte le atlete dalla prima all'ultima vivano in uno stato di assoluta invisibilità non esistono per lo stato italiano non hanno diritto di essere considerate lavoratrici quindi non hanno un contratto non hanno tutela infortunistica non hanno tutela previdenziale io che ero una giocatrice di palavolo scarsa però ho giocato e vissuto di quello per 15 anni ho perso 15 anni di contributi antonella non avrà mai una pensione e le cose sono ancora così e a qualcuno fa comodo che rimangano ancora così assist su questo combatte da sempre perché è una discriminazione vergognosa che abbiamo tirato fuori con grande coraggio ci siamo presi denunce insulti risate in faccia io ho cominciato che avevo 30 anni adesso ce ne ho 51 sono molto più forte ma avere il coraggio di presentarsi davanti a delle persone che ci ridevano in faccia non era affatto facile e noi continuiamo a combattere lo facciamo da sempre con gente come antonella non sono tante le atlete che ci hanno messo la faccia sono pochissime e alcune che non ci hanno messo la faccia oggi ricoprono anche degli incarichi molto importanti però noi continuiamo lo stesso e pensiamo che comunque vinceremo noi forse ci stiamo mettendo tanto tempo forse la mia ricrescita sarà sempre più abbondante e io vedrò questo grande risultato della vittoria tra un po di anni però noi vinceremo perché è semplicemente scandaloso che per esempio un atleta come quella che ho ascoltato ieri che una delle socie fondatrici di assist si chiama eva ceccatelli e della nazionale di sitting volley la pallavolo da seduti e la pallavolo paralimpica lei va ai giochi olimpici di tokyo con la sua nazionale beh pensate che eva per andare ai giochi olimpici utilizza le proprie ferie deve utilizzare le proprie ferie per andare a rappresentare l'italia ai giochi olimpici e questo accade perché purtroppo la leadership femminile nello sport italiano non c'è e la rivoluzione che quando io dico leadership femminile non dico solo leadership delle donne dico leadership femminile che può essere agita da uomini e donne che cos'è nella mia testa perché poi alla fine è il mio pensiero è null'altro è una leadership che invece di badare alla poltrona su cui sei seduto invece di badare al potere che ti sei conquistato e magari a qualche favore che potrai distribuire pensa al bene di tutti ecco perché noi stiamo bene nel Sherwood Festival perché qui si parla di un bene collettivo si parla di qualcosa di cui possiamo beneficiare tutti non solo perché abbiamo dei galloni perché siamo presidenti io non sono nessuno e sono felicissima di essere società civile e non essere nessuno però chi sta al governo dello sport e chi è nella politica di questo paese una responsabilità ce l'ha e sappiate che oggi non avere ancora un numero di dirigenti donne adeguato a un basso diciamo un livello basico di civiltà è comunque scandaloso grazie alle quote antidiscriminatorie di genere ricordatevi non chiamate le quote rosa chiamate le quote antidiscriminatorie di genere perché proteggono tutti oggi ci consentono di avere nei cda delle federazioni sportive un numero leggermente maggiore di donne ma fino a qualche mese fa non arrivavamo neanche a 7 8 per cento di dirigenti donne beh è il momento di cambiare qualcosa Antonella Bellutti è stata la prima donna a candidarsi al CONI non abbiamo mai avuto una presidente di federazione sportiva donna l'unica eccezione qualche mese fa la prima donna nominata infatti come dice Antonella l'eccezione che conferma la regola nella federazione italiana squash ecco tutto questo non va bene non va bene soprattutto perché tra un po' vedrete i giochi olimpici e vedrete tantissimi dirigenti che si fanno tantissime foto abbracciando le atlete che vinceranno medaglie dappertutto e abbracciando anche gli atleti che vinceranno medaglie dappertutto ma ricordatevi e fateci caso che se non sono nei gruppi militari non vincono e perché non vincono perché nei gruppi militari le assumono li assumono e quindi gli danno una sicurezza che vuol dire avere tutte le tutele bene noi siamo detestati come associazione poi chiudo perché noi diciamo che non è possibile che l'Italia abbia lo sport più militarizzato al mondo è semplicemente vergognoso io non voglio abbinare lo sport alle armi e questa cosa la diciamo solo noi e sempre cari grazie Luisa è sempre bello ascoltarti e invece io vorrei chiedere a te Antonella che hai preso questa decisione importante di candidarti come presidente del CONI ed è importante sia perché sei una donna ma anche perché sei una persona con tutte le competenze necessarie per provare a scardinare le dinamiche di potere del CONI perché era così importante ed è così importante questa candidatura e tutto quello che c'è stato dietro beh intanto buonasera grazie per l'invito e sicuramente parlare di questi argomenti in un contesto in cui c'è Luisa Rizzitelli è più difficile che vincere gli Oriolimpici perché quello che lei non ha detto e che non dirà mai di sé di assist è che sono l'unica realtà che negli ultimi vent'anni ha cercato di creare un ponte tra le necessità delle atlete e degli atleti e le istituzioni e sebbene non si è cambiato molto in realtà qualche piccolo passo in avanti c'è stato e se c'è stato è solo grazie ad assist e quando io ho conosciuto questa realtà e l'energia che sprigionava ho detto quante persone ci sono dentro questa associazione luisa la rizzitelli la presidente luisa rizzitelli e anche quello che è uscito ora in una riforma sebbene un po abortita è grazie al lavoro ventennale di assist che nel tempo ha formato i politici se così mi consenti di dire e quello che ora è stato portato avanti è nato dall'esperienza di assist che gratuitamente ha fatto quello che chi per lavoro non riesce non ha la sensibilità di fare in questo contesto in cui io ho cercato di rendermi utile è nata la consapevolezza che ci fosse la necessità di dare un segnale forte e di provare una candidatura non solo in quanto donna ma quanto candidata portatrice di valori e di temi che ad oggi sono sempre stati dimenticati sottovalutati e talvolta addirittura mortificati quelli di cui ha parlato luisa sono alcuni ma ce ne sono molti altri non vorrei fare lo stesso errore di di luisa di bruciare la scaletta della povera francesca quindi io sono un po più disciplinata e mi attengo di più alle domande eventualmente se vogliamo entrare nello specifico dopo volentieri quindi diciamo che una candidatura femminile sicuramente era prorompente perché perché in 107 anni di storia del coni italiano mai c'è stata una donna presidente del coni e mai una donna presidente di una delle 44 federazioni vuol dire che in quasi 800 ruoli di presidente mai uno è stato occupato da una donna questo dà un'idea di quello che è il mondo dello sport italiano che direi che forse dopo il clero è la roccaforte maschilista ancora più ben consolidata e ben difesa e questo però a fronte di un movimento femminile che nel tempo e molto velocemente ha non solo ottenuto risultati risultati importanti ma anche fatto parlare di sé per l'aspetto puramente prestativo perché pensate ci sono discipline che hanno un gap tra i due generi molto molto limitato nonostante la storia agonistica delle donne sia molto recente pensate che la prima maratona femminile alle olimpiadi è stata accorsa nel 1984 quindi le donne hanno sempre inseguito la possibilità di partecipare da quando sono nati i giochi olimpici moderni e questa possibilità di partecipare è stata ancora di più mortificata nella parte di rappresentanza all'interno delle istituzioni io feci un'esperienza importante nel 2000 quando con la riforma Melandri per la prima volta fu permesso agli atleti di entrare negli organi elettivi e veni eletta in giunta nazionale del CONI feci quell'esperienza poi ne feci molte altre vario titolo come tecnico come dirigente e ora sebbene con un po' di avvilimento perché mi sono sentita molto inutile in questi ruoli avessi deciso per un periodo di tirarmi fuori dal mondo sportivo per ricaricare e rigenerarmi però era arrivato il momento della tolleranza zero il momento in cui dici bisogna fare qualche cosa soprattutto anche perché il covid a mio avviso e questa pandemia hanno messo ancora maggiormente in luce la mentalità, la non cultura sportiva in Italia cioè il fatto che nessuno abbia speso delle parole per far capire l'importanza dell'attività motoria e dell'attività sportiva anche in un momento così critico che non ci siano state voci a sollevarsi per puntare sull'apertura delle palestre, delle attività ma ci siano invece state voci capaci di sollevarsi per l'apertura degli stadi ancora due mesi fa quando non si sapeva come sarebbero andate le altalenanti medie sui contagi eppure ecco questo è purtroppo il quadro dello sport in Italia insieme a quello molto più complesso dei vari problemi dal professionismo allo sport nella scuola tante piccole sfumature che dall'agonismo poi a catena ricadono nelle varie dimensioni di cui lo sport si compone e quindi da questo momento di intolleranza per la gestione dello sport è nato il desiderio di provare questa candidatura e è nato anche soprattutto sapendo dell'impossibilità di ottenere un risultato positivo dalla volontà di creare un movimento un movimento che raccogliesse il consenso di chi non si riconosce in questo modello di gestione e quindi abbiamo creato dei tavoli di lavoro grazie ai quali sono nati i temi e i programmi che poi sono entrati come contenuti nel documento finale che è stato il programma che ho presentato per la candidatura e che è rimasto come riferimento per la dirigenza sportiva italiana ed è rimasto talmente bene che ha riempito adesso le agende di chi si occupa dello sport in Italia mi fa molto piacere anche se non mi ringraziano però è sicuramente un passo in avanti di cui ci possiamo godere il merito e quindi non ho fatto una vera campagna elettorale ho fatto un'anti-campagna elettorale è culminata con dieci minuti di relazione prevoto in cui davanti ai grandi elettori lo dico perché immagino che non tutti siano informati di come si svolgono le elezioni del presidente del CONI ovvero a votare sono i presidenti delle 44 federazioni sportive nazionali e delle discipline associate che sono le federazioni più piccole quelle che non hanno i numeri per essere considerate federazioni poi ci sono i rappresentanti degli enti di promozione sportiva delle bene merite, degli atleti insomma 74 grandi elettori che sono ovviamente l'espressione di quel sistema che noi vorremmo cambiare quindi difficilmente ovviamente si possono ottenere consensi è ancora più difficile se poi vai lì ad accusarli di tutto quello che finora nel mondo sportivo non è andato bene però sono stati dieci minuti più belli della mia carriera sportiva e che aspettavo da tanto di poter esprimere e poi guardarli uno a uno e chiamarli per nome perché la cosa divertente è che dopo due tre che sono stati chiamati in causa ho visto tutti che si muovevano il colletto della camicia adesso tocca a me no, devo dire che comunque dopo quell'elezione comunque ci sono stati dei problemi che sono stati subito presi in considerazione quindi qualche cosa è cambiato e soprattutto forse per la prima volta l'elezione alla presidenza del CONI è diventato un fatto che ha superato le mura del feudo e di cui si sono interessati i cittadini maggiormente di quanto non accadesse prima abbiamo anche combattuto per un dibattito pubblico tra candidati tanto più che sappiate non è usanza che un presidente del CONI presenti un programma cioè ho introdotto anche questa strana usanza di avere un programma per il quale dovresti essere votato quindi diciamo che le mie anomalie hanno comunque provocato un terremoto di cui spero d'ora in avanti si dovrà tenere conto per cambiare qualche cosa comunque adesso sto divagando forse non è chiaro a tutti perché era quasi impossibile ricevere voti dai presidenti delle federazioni sportive quindi vorrei chiedere a Luisa di spiegare un po' come funziona questo feudo come lo chiama Antonella e perché all'interno delle federazioni sportive sarebbe così estremamente necessario un cambio di gestione sia generazionale quindi che coinvolga anche i giovani e che coinvolga chiaramente anche le donne ma sì, per farvi un paragone facilmente comprensibile è come se a nominare il ministro del lavoro fosse Confindustria ecco siamo più o meno in questa situazione di terza sì, ho fatto una metafora un po' così però è per darvi l'idea di come evidentemente questi 74 elettori siano delle persone ancora troppo legate al sistema che invece dovrebbe avere degli equilibri diversi e perché sono così ancora legate perché poi a votare i presidenti federali che a loro volta votano il CONI sono le associazioni sportive che purtroppo sono e spesso in buonissima fede all'interno di un sistema che ha pochissima trasparenza e non adeguate regole allora se io sono in un sistema in cui per riuscire ad avere vita semplice anche solo per la gestione della mia associazione sportiva devo essere magari in grado di conoscere avere rapporti con il capo di turno il presidente regionale di turno o qualcuno che non soltanto per la sua funzione mi può dare un servizio ecco che il sistema diventa particolarmente viziato per cui poi avete il presidente federale che si porta la sua parte la sua quota atleti e atlete che invece di essere espressione degli atleti è ancora espressione del presidente e quindi è una cosa ancora più sbagliata per cui quello che manca in questo momento dello sport italiano è che per votare un presidente del CONI c'è un gruppo molto ristretto di persone quindi è un gruppo di cui tutti sanno tutto tutti sapevano già come avrebbero votato i presidenti federali i presidenti degli enti di promozione le persone in quota atleti o quota tecnici quindi intanto per nominare per eleggere un presidente del CONI noi crediamo che la base elettiva debba essere molto più ampia perché se è più ampia la controlli molto di meno e se le regole sono chiare allora a quel punto tutti possono essere più liberi di votare qualcun altro invece in questo momento non è così e guardate che il CONI oggi gli hanno tolto una grossa fetta di danaro tantissimo sotto l'era di Malagò il CONI ha vissuto al più grande svuotamento di soldi della sua storia fino a qualche anno fa ci costava 450 milioni circa 450 milioni di euro all'anno oggi è nata Sport e Salute che è un'agenzia che si occupa di varie cose che sono state tolte al CONI che all'inizio si occupava di tutto quanto però il CONI continua a gestire ancora circa 50 milioni di euro dei nostri soldi sono soldi pubblici e in più giusto perché abbiamo toccato anche la parte gruppi sportivi militari i gruppi sportivi militari ci costano quanti soldi Antonella? 35 milioni 35 diciamo un altro pochino una manciata di milioni di euro ecco tutti questi sono soldi pubblici ecco perché quando Antonella dice abbiamo imposto che diventasse pubblico il dibattito su che tipo di sport vorresti non abbiamo chiesto la luna abbiamo chiesto una cosa che era assolutamente ovvia e pensate che Antonella è riuscita talmente tanto nella sua impresa che è di ieri un articolo nel quale Malagò che è una persona innamorata dello sport e poi ha il suo modo di gestire per esempio era presidente fino a poco tempo fa di un circolo romano che si chiama circolo canottiere aniene che da quanto so io ha ancora nel suo statuto l'impossibilità per le donne di associarsi ed è ancora così da quello che so io non hanno voluto cambiare lo statuto perché hanno detto è una questione di tradizione e infatti io mi stupisco di come non siamo restati tutti alla clava perché la clava era tradizione di duemila anni fa e lì dovevamo rimanere evidentemente ecco Malagò era presidente di questo circolo eppure ieri ha dichiarato che le quote antidiscriminatorie cioè la presenza delle donne è assolutamente una parte del suo mandato cioè abbiamo fatto diventare femminista Malagò cioè è una cosa che è incredibile e questo l'ha imposto Antonella Bellutti che pubblicamente diceva è scandaloso che voi non vi occupiate di questo è scandaloso che non vi occupiate di lavoro sportivo è scandaloso che Lara Lugli che è l'atleta di cui forse avrete sentito parlare che è stata citata per danni perché era incinta cioè una giocatrice di pallavolo che è incinta le viene stracciato il contratto sulla faccia perché così fanno e così succede smette di giocare tra l'altro dopo due mesi ha perso anche il bambino e siccome aveva due mesi di arretrato nei quali aveva fatto allenamento e giocato e ha osato chiedere all'associazione sportiva l'associazione sportiva qualche mese fa perché la battaglia l'abbiamo appena vinta la cita per danni dicendo non ti permettere di chiedere quei due mesi in cui tu hai giocato perché tu ci hai danneggiato con la tua gravidanza e non lo dice a voce lo mette nero su bianco nella citazione e allora Lara Lugli ragazza di Carpi in Gambissima ha il coraggio di pubblicare la loro citazione su Facebook questa cosa diventa ovviamente materia per assist per scatenare il finimondo ci riusciamo finiamo sul New York Times sul Guardian su El País su tutti i giornali internazionali finiamo anche su quelli nazionali peccato che nessuno muove un C semplicemente un sopracciglio nello sport italiano il presidente del CONI non fa una dichiarazione su questo il presidente della federazione pallavolo non fa una dichiarazione che stigmatizzi quello che ha fatto l'associazione sportiva e dice soltanto che devono mettersi d'accordo no presidente non si devono mettere d'accordo tu devi cacciare a calci nel sedere l'associazione sportiva che ha messo nero su bianco che è una ragazza che è incinta può essere citata per danni e Lara Lugli non deve andare in tribunale a difendersi sapete perché Lara Lugli non è andata in tribunale a difendersi perché oltre al macello mediatico che abbiamo combinato con Assist Antonella nell'assemblea elettiva esattamente sette giorni prima dell'udienza che avrebbe costretto Lara Lugli ad andare in tribunale a difendersi perché era incinta ha guardato in faccia i signori e ha detto voi vi dovete vergognare se Lara Lugli andrà in tribunale sarà una vergogna per lo sport italiano e questa cosa l'ha detta lei Antonella perché secondo te è così difficile per le federazioni sportive e per il CONI provare a sostenere un qualsiasi tipo di cambiamento avevo fatto una domanda difficile ma in effetti abbiamo parlato finora di gestione dello sport monogenere in realtà manca un pezzo perché non sono solo uomini che hanno gestito lo sport in Italia finora sono anche sempre gli stessi perché tra le cose che ho detto in quella santa relazione pre-voto c'è anche che tra otto dei presenti ho detto fate 250 anni di reggenza perché ci sono presidenti pensate ci sono presidenti di federazioni in Italia che sono all'ottavo mandato perché adesso c'è la legge che impedisce di andare oltre il terzo però non era retroattiva e quindi chi era già al quinto mandato ha fatto iniziare il primo ecco dopo la legge quindi c'è gente che ha il coraggio di essere lì da otto mandati allora è un mandato dura quattro anni perché è un mandato come l'anno olimpico ecco quindi diciamo che c'è una certa evidente resistenza da parte della dirigenza sportiva italiana a rigenerarsi a prescindere e perché è così difficile perché è un mondo di privilegi evidentemente che non vogliono essere condivisi e in questo sistema probabilmente avere qualcuno che non solo perché donna ma perché non corrisponde a questi valori o disvalori meglio che la gestione sportiva italiana rappresenta è un problema e quindi si cerca ovviamente di più possibile di costruire recinti costruire barriere e ovviamente c'è un silenzio di difficile comprensione soprattutto ai giorni nostri che viviamo in un'epoca mediatica dove tutto in un attimo corre quello che succede all'interno del mondo sportivo riesce a restare silenzioso pensate che ci sono federazioni consiglieri federali che hanno fatto esposti al CONI ma non uno svariati e sono rimasti senza risposta adesso ovviamente la mia candidatura è stata inefficace dal punto di vista dei voti però non è stata inefficace dal punto di vista delle ritorsioni e quindi sto subendo alcuni danni per le cose che ho detto ma i danni sono quasi imbarazzanti perché vengono fatte delle cose su cui non ci sono i presupposti di agire ma siccome nessuno può dire niente a chi sta in alto allora si va avanti così e adesso non posso entrare di più nei dettagli ma per dirvi che c'è un immobilismo veramente vergognoso e nonostante ci sia la vigilanza ci sia sport e salute che si è presa gran parte delle competenze del CONI per cui è vero che adesso il CONI ha solo 50 milioni di euro da gestire ma anche solo la preparazione olimpica di cui occuparsi quindi di fatto mette la tuta gli atleti e li porta alle olimpiadi quindi 50 milioni mi sembrano pure troppi e quindi c'è sport e salute c'è sottosegretaria Vezzali c'è l'ufficio sport del Consiglio di Ministri quindi voglio dire ci sarebbero gli strumenti per vigilare su ciò che all'interno dello sport accade ma c'è comunque questa resistenza che fa fatica a essere tolta Rizzitelli magari tu hai una risposta più precisa ma vogliamo dare un nome? No, non lo diamo non creiamoci altri danni via comunque ci sono degli aspetti di cui abbiamo parlato tipo il lavoro sportivo che sono dei punti fermi della reggenza della presidenza della dirigenza sportiva italiana al punto che quando noi guardavamo con ottimismo alla riforma perché finalmente si parlava del professionismo femminile del lavoro sportivo chi è stato a opporsi alla riforma sono stati i presidenti federali tant'è che i presidenti delle tre massime federazioni sportive italiane ovvero calcio basket e pallavolo hanno scritto al premier Draghi chiedendogli di non approvare la riforma poi è stata approvata ma subito bloccata e quindi questa è l'evidenza che c'è da parte della dirigenza l'interesse di mantenere un sistema di lavorare all'interno dello sport che permetta una certa diciamo elasticità esatto elasticità all'interno della quale chi è in buona fede può agire sicuramente in maniera corretta ma chi non è in buona fede può fare quello che vuole infatti Luisa prima quando ha parlato di caso Lara Luli forse ha messo dei dettagli che chi non è addetto ai lavori non può conoscere cioè è vero che le atleti non sono professioniste e anche gli atleti maschi di 40 federazioni non sono professionisti però in queste scritture private esistono quelle che nello sport sono definite clausole compromissorie ovvero delle clausole per cui non puoi adire alla giustizia ordinaria qualsiasi controversia va risolta e discussa all'interno degli organi sportivi quindi capite che è un sistema per tenere ancora di più gli atleti legati a qualcosa che non va bene che può essere diretto come più conviene e questo apre tanti altri discorsi che comunque fanno più o meno un quadro di quello che è l'immobilismo in cui lo sport italiano versa e che è tanto più grave proprio per la funzione pedagogica che lo sport ha e assume e che spesso un po' con ipocrisia viene definito scuola di vita scuola di valori sì però certo la gestione se lo sport ha questi valori ed ha queste potenzialità la gestione dello sport dovrebbe adeguarsi ai valori non essere in contraddizione con essi e quindi questo è uno dei grandi temi che a me sta a cuore che fa soffrire che penso che debba essere in cima alle priorità di chi vuole un cambiamento del mondo sportivo volevo solo aggiungere giusto perché ci stiamo facendo un sacco di amici se ci sono dirigenti del Cone delle federazioni non usciremo vive da qui vabbè però siamo abituate che se vi sfugge qualcosa adesso vi faccio vi dico alcuni punti che secondo me chiariscono benissimo il perché è così difficile oltre quello che ha benissimo detto Antonella se io vengo pagato con un rimborso spese un rimborso spese invece che con una busta paga evidentemente costo molto meno se io prendo mille euro e il rimborso spese per il mio datore di lavoro costa mille è ben diverso che se io vengo assunta o ho un contratto di lavoro vero e proprio per prendere quei mille netti il datore di lavoro deve metterci su forse 6-700 euro di altri costi e questo non lo vuole nessuno e quando noi diciamo che nello sport sono negati dei diritti umani si scandalizzano tutti ma se Lara Lugli è una lavoratrice di fatto ma non lo è nella forma perché non glielo permettete voi state negando diritti elementari a una lavoratrice e a un lavoratore e questa cosa è assolutamente scandalosa e lo state facendo perché la scusa ufficiale che se mettete le paroline professionismo trovate in google cioè mettete queste parole e la scusa ufficiale è ma le associazioni sportive non ce la farebbero non reggerebbero l'impatto economico e allora noi con Antonella abbiamo ricordato che lo sport è l'unico settore in Italia in cui i diritti delle persone quindi dei lavoratori e delle lavoratrici vengono dopo dopo la capacità economica del datore di lavoro scusate in quale in quale professione uno può dire no guarda io non ti faccio il contratto di operaia o il contratto di giornalista o il contratto di rider no scusa non te lo posso fare perché se no fallisco e no caro mio tu me lo devi fare è un problema tuo se hai o no la capacità economica e se non ce l'hai mi dispiace tratta con qualcun altro come puoi fare a essere aiutato e invece qui si continua a fare rimettere semplicemente all'anello più debole della catena e siccome poi parliamo di discriminazioni e spesso ci dicono ma non è vero in fondo sono superate cioè adesso Antonella vi potrebbe raccontare che quando è andata ai giochi olimpici di Sidney ma lo faccio io perché ormai mi diverto a dirlo ha dormito in un container cioè la campionessa olimpica l'hanno ospitata in un container mentre gli altri erano negli alberghi ma vi posso citare la nazionale di calcio che oggi tutti vediamo finalmente forse no trattata come si deve Milena Bertolini la capitana che è stata anche ospite qui a Sherwood raccontava non più di due anni fa a Bologna che loro per fare allenamento nella squadra credo fossi a Verona gli venivano dati degli orari serali e la luce era talmente scarsa nel campo che mettevano i fari delle macchine accesi verso il campo di calcio per riuscire a fare allenamento quindi qui il punto non è la parità di genere qui il punto è lo schifo della mancanza di rispetto le giocatrici di calcio sono quelle più soggette all'esbofobia e omofobia della storia dello sport e nessuno lo dice sul serio e nessuno fa niente e nessuno neanche si inginocchia quando i simboli cari amici della nazionale di calcio ti faremo tutti per voi per carità però inginocchiarsi in quel caso per dire siamo tutti contro il razzismo non vi sarebbe costato proprio nulla e avreste dovuto farlo io ho un'ultima domanda per tutte e due poi spero che qualcuno dal pubblico voglia chiedere o dire qualcosa dando uno sguardo fuori dall'Italia vediamo che la situazione nella leadership sportiva femminile non è così diversa però per esempio in Francia è stata eletta la prima presidente donna del comitato olimpico francese ed ha avuto quasi il 60% dei voti quindi un grande cambiamento rispetto a quello che vediamo qui quindi vi chiedo cosa possiamo fare insieme per fare in modo che anche in Italia finalmente ci sia un cambiamento che sia reale e non solo simbolico chi risponde? cosa possiamo fare? beh iniziamo dal capire perché non è così diverso anche fuori dall'Italia sebbene un po' diverso sia perché comunque lo sport che conosciamo ora lo sport moderno nasce in piena rivoluzione industriale quindi la sua gestione corrisponde ai valori della società capitalistica patriarcale paternalistica che sono nati insieme alla rivoluzione industriale quindi questo è il modello di gestione che poi si è consolidato e sviluppato ovunque qui particolarmente poi se parliamo del confronto con la Francia ovviamente è un confronto imbarazzante perché la Francia ha una cultura sportiva che vede ad esempio nell'orario curricolare 5-6 ore di lezioni settimanali contro la nostra unica ora e nemmeno gestita da insegnanti qualificati e poi vogliamo parlare della tradizione francese se esistono i giochi olimpici femminili è perché nel 1920 nacque in Francia una Luisa Rizzitelli di nome Alice Milia che fece diventare molto come dire come lo fece diventare il barone de Coubertin vabbè lo mise all'angolo perché il barone de Coubertin quando fece nascere i giochi olimpici li fece nascere solo per i maschi e quindi fu grazie a lui era proprio contrario diceva che non era né conveniente né estetico che le donne facessero sport e quindi fu grazie a questa Alice Milia che nacquero prima i giochi mondiali femminili che ebbero così grande successo che costrinsero il barone a includere le specialità anche femminile è un'inclusione che avvenne molto lentamente tant'è che la parità nel medaliere tra i due generi è avvenuta solo nel 2012 alle Olimpiadi di Londra quindi è stato lunghissimo questo inseguimento però è avvenuto adesso dal CIO quindi dal Comitato Olimpico Internazionale stanno arrivando indicazioni molto forti per andare sempre di più nella direzione della parità tant'è che ai giochi olimpici di Parigi nel 2024 ci sarà per la prima volta una partecipazione paritaria tra maschi e femmine dal punto di vista degli atleti e in Italia non solo questo ho dimenticato di dirlo prima lo aggiungo adesso non solo non ci sono dirigenti donne ma non ci sono nemmeno donne all'interno dei quadri tecnici che è ancora certo una conseguenza ma è ancora più grave perché sono le persone che sono più a diretto contatto con gli atleti e forse anche i problemi tanto adesso alla ribalta con questo libro l'impunità di Gregg sarebbero meno gravi se ci fosse un po' più di equilibrio anche all'interno dei quadri tecnici pensate che se prima di questa tornata elettiva che ha portato il 30% grazie alle quote di donne all'interno dei consigli federali la rappresentanza femminile a livello dirigenziale era sotto il 10% e all'interno dei quadri tecnici era ancora più bassa quindi nemmeno nelle discipline dove la prevalenza di atleti è donna come nella pallavolo ci sono donne nei quadri tecnici quindi la domanda era come si fa io penso che si possa fare solo arrabbiandoci dobbiamo arrabbiarci di più e dobbiamo farci sentire di più penso che siamo troppo buone siamo troppo buone dobbiamo seguire tutti questo grande staff di assist e farci sentire perché guardate anche all'inizio della nostra candidatura per uscire dico nostra perché ormai siamo sì eravamo veramente molto in difficoltà nell'uscire con le informazioni per fare un comunicato era veramente una lotta e poi a forza di insistere e di uscire con dei temi importanti si è fatta breccia e se insomma alla fine non dico abbiamo prevalso però comunque abbiamo conteso la scena Malagò è grazie a questa insistenza e a questa forza di di sostenere la presenza anche con temi con temi importanti che accendano il dibattito quindi io credo che ci voglia solo determinazione e soprattutto fare rete perché una cosa che mi avvilisce è sentire questa solita questo solito slogan che le donne non sanno sostenersi a vicenda non sanno fare rete non è vero è certo che il colpo di coda del patriarcato è l'ascesa delle ancelle quelle che io chiamo le ancelle del potere il colpo di coda quando ormai non si può più farne a meno allora va bene mettiamo nei posti che contano le donne ma sono le donne che decidiamo noi e che rappresentano il nostro modo di pensare quindi non ci facciamo ingannare dalla presenza femminile attuale ma sono gli strascichi per arrivare poi al cambiamento perché noi abbiamo il doppio compito non solo quello di proporre ma anche di destrutturare quindi prima dobbiamo distruggere poi quindi ci vuole un po' più tempo ma ce la faremo io ormai i capelli bianchi ce li ho la ricrescita non la conto più e quindi posso solo guardare con ottimismo il futuro ti passo la parola non sarebbe una splendida ministra dello sport sono di parte d'accordo io intanto voglio dire due cose che noi abbiamo lanciato la carta etica dello sport femminile e abbiamo Angela Montemurro qui che sono felicissima di avere la considero un attivista al nostro fianco forse l'adotterà il comune di Padova ne saremo molto fieri intanto l'hanno adottato il comune di Bologna per primo poi Caltanisetta Enna Termoli Pescara e tante altre città la carta etica ha 14 punti ricorda semplicemente che la parità di genere è qualcosa che è previsto dall'articolo 3 della Costituzione e dice altre cose molto pratiche che per esempio come è successo 7-8 anni fa una maratona a Trento non è normale che ci sia il monte premi che sia più basso per le donne i monte premi devono essere identici anche se vi dicono che ci sono meno partecipanti donne i monte premi devono essere uguali pensate che a Trento in una maratona a dare i soldi era stato l'assessorato allo sport e le pari opportunità e i premi erano la metà per le donne ecco c'è un'attenzione che questa carta chiede ed è uno degli strumenti un altro strumento è seguire le associazioni indipendenti e libere come noi Assist ha dei soci ci si associa con 10 euro e soprattutto tanta voglia di darci una mano questo è un altro strumento potete sicuramente farlo però al di là di questa autocampagna sull'associazione di Assist quello che voglio dire è che non è vero che non si paga un prezzo nel combattere nel sentire quello che è giusto Antonella il prezzo lo paga perché probabilmente è l'unica atleta con un curriculum straordinario e un palmarès sportivo impressionante a non avere un incarico nello sport italiano probabilmente lo pagherà ancora io anche ve l'ho pagato perché ero una speaker che è venuta a Vicenza per 10 anni a fare la speaker di tutti gli eventi di pallavolo maschili e femminili poi quando ho cominciato a fare l'attivista per Assist di colpo non mi hanno più chiamato e di colpo sono diventata una specie di anticristo per il mondo sportivo ma non fa niente ecco quello che io chiedo e lo chiedo moltissimo agli uomini che io ritengo degli alleati preziosissimi per le battaglie femministe cercate di essere in campo esattamente come qualunque associazione gli individui i cittadini e le cittadine sono fondamentali abbiamo i social network dove massacrarli ogni volta che vediamo qualcosa di ingiusto abbiamo il modo di scrivere fare esposti siate cittadini e cittadine attive e sappiate che il prezzo lo pagherete perché il prezzo si paga però nessun prezzo vale la gioia di fare qualcosa di giusto e questo in fondo è quello che tentiamo di fare noi con Assist io direi che noi possiamo metterci in panchina e lasciare la parola a Federico Greco e Luca Scholl che lo presenta e ci parlerà del suo libro che è uscito ad aprile di quest'anno e che parla di sport femminile grazie